Salve tutti perché ho sentito i vostri commenti siete state molto gentili anche troppo volevo dire che fra poco voglio trasmettere una ricetta nuova questa ricetta che voglio trasmettere naturalmente lo sapete è una ricetta vegetale anzi ve lo voglio dire subito quale sarà la ricetta da trasmettere quest'altra volta la prossima volta di baccelli e arancia una pietanza che mia madre la faceva molto spesso in questi tempi ed era molto buona